buon weekend a tutti vediamo il titolo intesa san paolo con vari time frame perché chiaramente un titolo seguitissimo probabilmente il titolo più seguito tra bancari italiani e offre secondo noi spunti di trading molto molto interessanti e va anche detto che ha una situazione molto molto pericolosa vediamo insieme perché time frame daily candele giapponesi questo livello a 1 70 un livello che era prima supporto poi rotto violentemente re testato con questa pin bar con questa candela che più esattamente possiamo definire o una doge comunque una spinning top comunque re testa e poi successivamente ancora un re test quindi 1 70 diventa una resistenza chiarissima abbiamo poi avuto il test al supporto varie volte di 1 e 30 ed è un livello anch'esso estremamente chiaro perché è un livello supportivo molto preciso è una soglia psicologica essendo 1 e 30 una cifra tonda e con la resistenza di 1 e 70 forma un'area di compressione ma molto particolare perché perché ogni rimbalzo forma dei massimi ma sempre più bassi e indice quindi di una debolezza di fondo del titolo un'area di compressione sana chiamiamola così porterebbe probabilmente retestare anche più volte la parte superiore del rettangolo cosa che non avviene c'è una debolezza di fondo del titolo quello che a questo punto si può si potrebbe verificare sarebbe la rottura vista la debolezza del supporto in area 1 e 30 se dovessimo viceversa riavvicinarsi 1 e 70 sarebbe un'occasione e interessante in ottica ribassista fermo restando che dovrebbe avvenire quando poi gli short saranno riaperti sarebbe un'area interessante in ottica ribassista perché si trova poi sotto a un'altra area di resistenza chiarissima che sarà veramente difficile da superare a 1 80 resistenza statica di lungo periodo con sopra un gap down quindi tutta questa 80 è un'area di stima ma purtroppo è anche un'area lontana perché come detto i massimi che si vanno creando dai rimbalzi di 1 e 30 sono sempre dei massimi a scendere decrescenti ed è un segnale negativo il momentum non riesce a superare la linea dello zero quindi c'è una debolezza di fondo quello che è da vedere che l'eventuale rottura al ribasso di 1 e 30 potrebbe dare uno shock negativo al titolo portandolo e qui passiamo al settimanale fino al livello di un euro che può sembrare fantascienza ma insomma nella volatilità di questo periodo in borsa abbiamo visto di tutto area 1 che è un supporto di lunghissimo periodo dinamico eccoci qua ed è evidenziato da questo livello porto supporto e proseguendo eccoci qua arriveremo all'incirca in area 1 e anche con la griglia di fibonacci possiamo verificare come la riposizioniamo adesso da questi massimi l'estensione al 100 per cento ha visto poi un rimbalzo fino al 61 8 poi fino al 50 quasi a sfiorare il 38 e 2 e poi di nuovo rottura ribassista proprio agli 1 80 che vediamo prima del livello del 100 per cento e il successivo livello eccoci qua sarebbe il 161 8 tra 0 90 e 1 con un minimo di tolleranza visto che siamo sul wiki di lungo periodo però ecco a questo punto un 80 una nuova resistenza anche per fibonacci e l'estensione successiva appunto ci porterebbe in area un euro che può sembrare ripeto fantascienza ma effettivamente graficamente è un area pulita e anche perché prima non abbiamo dei supporti importanti validi per cui attenzione veramente alla rottura di 1 e 30 che potrebbe dare questa accelerazione ribassista ancora più negativa la visione se passiamo sul time frame mensile innanzitutto che abbiamo questa pin bar chiarissima e poi la candela di marzo una open marbozzo ossia sull'apertura non ha spike sopra una spike una spike sotto ma il corpo è talmente esteso porta il momento sotto lo zero e da in là appunto al cambio di trend e il livello è estremamente estremamente preoccupante perché vediamo come si sia andato con questo minimo che ci aiuta a disegnare il supporto statico si sia andati a rompere e con la candela di aprile a retestare correttamente come analisi tecnica vuole questo supporto che appunto era resiste era supporto e poi con la candela del mese in corso diventa diventa resistenza per cui effettivamente rottura e classico reteste in questo caso e in questo caso si presuppone che vi possa essere poi la prosecuzione ribassista e andiamo come detto prima eccoci qua in area 1 dove dove potrebbe terminare la discesa di intesa proprio quindi mentre sul daily c'è da preoccuparsi per la rottura di questo livello di 1.30 il mensile ci fa vedere come probabilmente il trend potrà portare vista la rottura e il retest del livello che ora è resistenza questo movimento potrà portare poi alla rottura di 1.30 in questo caso come detto prima sugli altri time frame assolutamente non è da escludere il test al livello di 1 euro per cui ecco monitoriamo intesa evitando idee rialziste se dovessimo andare sotto 1.30 facendo il solito ragionamento del prezzo troppo basso su un titolo importante e solido il prezzo al momento è quello che comanda e il trend è e resta ribassista vi invitiamo a scaricare la nostra app per altre analisi la app è gratuita basta cercare su apple store o play store scatta col trend fare il download avete altre analisi e molto materiale didattico gratuitamente a disposizione buon weekend a tutti